Che accadrà? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando ancora. Sì, beh, sentite, eh, Tess. E che... Quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, come stai... È quello che ha detto. Ah, certo, non ho alcun dito. Ehi, tozza al culo, non l'ho chiesto io. Mi ha chiesto, Tess. Che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Giorno. Siamo arrivati fin qui, andiamo fin qui. Dobbiamo ricordarti che cosa c'è là fuori. Ho capito. Da questa parte! Passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Caricamento catch point. Dio, santo! Va bene, dai! Dopo l'ultimo catch point, che serve questo? Vado un attimo a svegarmi in casa. Dopodiché ci ripeteremo sicuramente nel pomeriggio. Facciamo caricare il catch point intanto. Comunque, resa grafica molto molto bella, molto interessante il dettaglio grafico. Sia della parte dell'erba, del terreno, della pioggia, degli effetti di luce, anche delle gocce che si infrangono sul monitor. L'effetto scenico, anche dai riflessi, molto molto bello. Che cavolo era? Sì, ma sembrava abbastanza lontano. In realtà. Siamo salti. Per ora. Dai. Da qui. Sì, ma sembrava abbastanza lontano. 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 Sì, ma sembra 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 abbastanza lontano. Trovato qualcosa lì? No Cerca Devo fare qualcosa? Stalle vicino per ora Ehi Tess Arrivo Ehi Che un cazzo lì È stato fatto a pezzi Sì È morto da poco Ed è un male? Sì, potrebbe Andiamo via Allora Ah, ah, con questo Ah Ah Accordi C'è Al secondo stadio Al secondo stadio Vicino a un palazzo Crollato Ci muoviamo per investigare Contatti infetti Multiplicati Advene Se ne co Un colis Decisi in azione Ricordati E ritirati All'interno del palazzo Attendiamo evacuazione Sì E mi sa che è fatta una brutta Ma brutta brutta fine I soldati sono morti Aspettando i rinforzi Che non sono mai arrivati Questo edificio è tutto storto Cristo Cazzo Un clicker Gesù Cos'è successo alla loro faccia? È così dopo anni di infezione E quindi C'è che? Più o meno Vedono tramite i suoni Pipistrelli? Come i pipistrelli Non appena senti dei click Devi nascondere Che stavate facendo voi due? Zozzoni Sti topi zozzoni Sembra che l'edificio Stia per cadere a pezzi Sì infatti L'occhio alla testa Cristo Tutto troppo forte C'è un razzo Dammi una mano con questa What the f*** What the f***